Le ragazze di Mazzanti sono arrivate a giocarsi un posto in semifinale. Ciao Alessandro Acton, Italia che aspetta di affrontare la Francia. Buongiorno. Buongiorno Roberta. Eh sì, siamo al giorno della verità. Le ragazze dovranno rispondere agli uomini. Questa sera però nel loro caso si tratta del barrage per arrivare all'obiettivo minimo, la Final Four di Bruxelles. L'avversaria, la ricordavi, è la Francia. Siamo alla settima partita che riguarda le azzurre di Mazzanti, le cinque del girone, l'ottavo di finale contro la Spagna, sempre qui a Firenze dove siamo adesso, dove giocherà per l'ultima volta l'Italia. Finora tutte vittorie, tutte per 3-0. La Francia probabilmente sarà, come è normale che sia, anche l'avversario più forte finora affrontato, ma ampiamente alla portata. A patto di fare tutte le cose per bene, a patto di cominciare di approcciare la gara meglio di quanto non sia stato fatto sabato contro la Spagna negli ottavi di finale. Le immagini che vedete sono relative al fondamentale allenamento del giorno prima con la palla, provate i servizi, provate le ricezioni, partitella con un sestetto teoricamente titolare sempre con Antropova in diagonale con Orro, dunque dovrebbe partire ancora della panchina Egonu. Le notizie invece della giornata sono le solite del giorno partita, rifinitura, adesso le ragazze passavano prima dietro di me per andare qua al piano soppalcato a pranzare, dopodiché ci sarà da studiare le avversarie e poi se vuoi nei prossimi collegamenti, oggi adesso entriamo più nel dettaglio, seduta video, la conoscenza ufficiale del sestetto da parte delle interessate, poi lo conosceremo ufficialmente anche noi, anche se le idee, come ti dicevo, le abbiamo abbastanza chiare e poi lento avvicinamento fino al via. 21.15 Sky, Sport, Summer, Italia-Francia per volare a Bruxelles. Alessandro, prima di salutarti, com'è questo avversario? Che cosa ci dobbiamo aspettare dalla Francia? Allora, la Francia non è una squadra a livello dell'Italia, né come ranking, né numericamente, né dal punto di vista empirico, dal punto di vista visivo. Ha fatto fatica contro la Romania, parecchia fatica, troppa fatica, la Romania ha perso nettamente in quella gara di esordio contro l'Italia all'Arena di Verona. Detto questo, ha almeno quattro giocatrici di livello internazionale, tre che giocano in Italia, una schiacciatrice, Casot, che andrà a giocare in una squadra come Milano, probabilmente non sarà titolare, comunque sarà compagna di squadra di campionesse come Silla e Gonu, e Orro, attenzione, dice Mazzanti al loro servizio, attenzione alla nostra ricezione, che contro la Spagna è andata molto, molto male. Dobbiamo alzare il livello, tanto per passare il turno e poi in ottica semifinale, dove ci attende la vincente tra Polonia e Turchia, che si affronteranno domani a Bruxelles.